Serie BWIN appassionati. Può partire Berardi, suo sinistro, la deviazione, Fiorillo in calcio d'angolo, pericoloso il Sassuolo. Catellani dalla bandierina, la palla passa, attenzione, Boacic con la testa, poi Missiroli, traversa, ottavo minuto. Viene servito ora l'ex giocatore della Juventus, Boacic, si accentra al destro, Fiorillo a terra. Attenzione, Ostinelli non perdona la spallata di Anteis su Emerson, è giallo per l'esterno destro del Sassuolo. Fischi Ostinelli, si riparte sullo 0-0 al Braglia. Gran capocciata, violentissima tra Lucio e Missiroli, entrambi restano a terra sanguinanti. Insegue il pallone Berardi, poi Duncan sbaglia, attenzione, contropiede per il Sassuolo, opportunità 2 contro 1, Berardi dentro per Boacic, c'è Emerson che le spinge, attenzione, ancora Boacic, il destro. Palla fuori, doppia, clamorosa opportunità, fallita da Richmond Boacic. Rientra Luci, va via Lambrughi ad Anteis, che lo atterra, attenzione, fischia Ostinelli, Anteis era già ammonito e Sassuolo resta in 10 al 57esimo minuto. Può essere la svolta del match. Almeno torna Missiroli. Bellingheri, Murato, ancora la palla viva. Luci la difende, poi Schiattarella dentro per Dionisi, attenzione, Terra Nova si immola. Parte Emerson, la palla si abbassa ma non ha sufficienza. Missiroli dentro per Berardi, l'anticipo di Ceccherini. Berardi resta a terra, reclama il rigore. Poi attenzione, si accapigliano Ceccherini e Berardi. Arriva anche Boacic, storie tese, Fiorillo. A terra Berardi, rosso per entrambi. Fuori Fiorillo, fuori Berardi. 9 contro 10 al 76esimo al Braglia. Ceccherini ora esce per lasciare spazio al secondo portiere Mazzoni. Va via Schiattarella sulla destra, la frenata a Tunella Troiano. Luci il cross, Bellingheri. Colpo di testa alto all'ottantesimo. Parte la parabola, arcuatissima. Secondo palo, Bernardini, Bellingheri. Fuori ancora di un soffio. Il Livorno si gioca il tutto per tutto. Lunghissimo con le mani gemiti. Attenzione dell'agnello, Dionisi. Magnanelli in calcio d'angolo. Siamo ormai oltre al 95esimo. Guarda il cronometro Stinelli ma attenzione. C'è Missiroli in aria. Missiroli! Esplode il Braglia. Esplode di Francesco. Il Sassuolo è in Serie A e vince lo spareggio con il Livorno. Per la prima volta in Serie A. La squadra nero-verde. Mentre il Livorno, pur con l'uomo in più, è costretto ai play-off. Ed ecco il fatidico momento. Il presidente della Lega di B, Andrea Bodi, consegna al Sassuolo la Coppa ali della vittoria. Il Sassuolo vince la Serie B Win 2012-2013.